Pachino, recrudescenza della droga, sorpreso 29enne, arrestato. La zona sud del capologo sempre più oggetto di attenzione delle forze dell'ordine è dovuta alla recrudescenza di atti malavitosi. In questo contesto proseguono con incessività i servizi di prossimità posti in essere dai carabinieri della compagnia di noto, finalizzati alla prevenzione dei reati, con particolare riguardo a quelli contro il patrimonio e quelle relativi ai traffici di sostanza stupefacente, problematica purtroppo assai diffusa sul territorio. In tale quadro, nel corso della giornata di ieri, i carabinieri della stazione di Pachino hanno tratto in arresto in fraganza del reato di detenzione. Ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, Paolo Andolina, 29enne, è già nota alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia. I carabinieri, a seguito di una perquisizione personale e veicolare, hanno infatti rinvenuto nella disponibilità del soggetto 13 dose di eroina già confezionate, nonché 9 flaconi di metadone, traendolo quindi in arresto. Il soggetto è stato successivamente sottoposto agli arresti domiciliari.